Diano Castello, Dian Castello in Ligure, è un comune della provincia d'Imperia, i cui abitanti sono detti Castellotti e il patrono è San Nicolò. Castum Diani sarebbe sorto nel Novecento come luogo fortificato in posizione collinare per difendere gli abitanti dalle scorrerie dei saraceni. Diano Castello era l'unico borgo fortificato della valle e nella sua cinta muraria si aprivano quattro porte. L'abitato ha forma ovoidale e struttura concentrica, con strade quasi parallele tra loro, intercalate da percorsi secondari perpendicolari a quelli principali. La visita può cominciare dalla lastricata via Meloria, che presenta ai lati imponenti palazzi gentilizzi del 1500 e 1600, dotati di ampie scalinate, portali e decorazioni a ornamento nelle facciate. Al termine della strada le abitazioni si diradano, consentendo la vista panoramica sulla vallata e le terrazze coltivate a vigna e ulivo. Oltre la parrocchiale intitolata, come ho detto, a San Nicola da Bari, eretta tra il 1699 e il 1725, comincia una delle zone più suggestive del paese. Via Martiri della Liberazione, leggermente scoscesa, delimitata da alte abitazioni che sembrano trattenersi a vicenda per mezzo degli archivolti di collegamento delle strutture portanti. La strada, dopo breve tratto, si apre in due piccole piazze contigue, in una delle quali sorgeva, dal 1000, il castello, di cui però ormai rimane solo qualche traccia.